Se il ruolo dell'avvocato si trasforma assieme agli elementi delle società in cui esercita, di sicuro ha impatto sulla professione e sul diritto la rivoluzione che ha investito il concetto e la realtà della famiglia nel mondo occidentale. In che modo gli avvocati possono assistere ai nuovi nuclei familiari e quali sono le nuove leggi che regolano i rapporti tra i loro membri? È un ruolo di cerniera, è un ruolo di facilitatore della soluzione delle controversie minute e meno minute, quindi più rilevanti che possono verificarsi all'interno della famiglia, alla luce del nuovo quadro disegnato dalla recente legge del 2013 che è entrata in vigore poco più di un mese fa, il 7 febbraio. È un ruolo di responsabilità fondamentale perché è sì una contrapposizione di diritti e di situazioni giuridiche ma particolari e peculiari che richiedono sensibilità e preparazione e quindi anche un nuovo volto della professione. Scomparsa la potestà patria con la legge del 75 era stata affermata la potestà genitoriale, adesso è scomparsa la potestà genitoriale e esiste la responsabilità genitoriale. È stato introdotto nell'ambito per esempio della disciplina della responsabilità genitoriale un dovere dei genitori aggiuntivo rispetto a quelli previsti dalla vecchia normativa, il dovere di assistenza morale che prima non era previsto. C'è una nuova normativa a proposito dei diritti dei nonni che prima non esisteva, i diritti dei nonni a conservare un rapporto affettivo, continuativo con i nipoti, in qualsiasi condizione, sia nel caso di matrimonio sia nel caso di cessazione del matrimonio. È venuta dall'esperienza di questi anni la responsabilità nei confronti dei figli, l'assoluta parità in tutte le situazioni, la pienezza dei rapporti non solo con i genitori, come si sa c'era la controversia forse eccessiva, ma comunque esistente i rapporti con i nonni e quindi il rapporto di filiazione rimane importante, ma ripeto nella logica assolutamente paritaria e di pieno inserimento all'interno dell'organizzazione familiare. Organizzazione familiare che passa anche dal riconoscimento legale dei nuovi nuclei familiari e dalle novità introdotte dalla nuova legge sulla filiazione. Abbiamo avuto recentemente finalmente una piena e totale equiparazione tra figli nati dentro e fuori del matrimonio e abbiamo soprattutto una novità importante che ci viene dalla Carta ai diritti fondamentali dell'Unione Europea perché l'articolo 9 della Carta in realtà mette sullo stesso piano le diverse forme di costituzione della famiglia. Rivede la legittimità anche delle unioni tra persone dello stesso senso. La codificazione è un prodotto della borghesia e quindi anche il regime del matrimonio e della famiglia è storicamente il regime consegnato ai codici, quello della società borghese. Quindi aristocrazia e classi popolari spesso, allora e sempre hanno risolto i loro problemi anche fuori dei confini della cornice del codice. Questo però non toglie che la regolamentazione del codice civile soprattutto con la crescita di importanza e di sensibilità delle classi meno abbienti non sia diventato e non può ulteriormente diventare il codice di tutti, quindi non della sola borghesia. Grazie. Grazie.